Cambiamo argomento con la protesta di studenti e insegnanti dopo lo sgombero per motivi di sicurezza dell'Istituto Melchiorre Delfigo di Teromo. 1.200 tra bambini e ragazzi sono rimasti senza scuola. Sono stati già individuati spazi temporanei, ma preoccupa lo scenario complessivo perché altre scuole sarebbero nella stessa situazione. Alice Cercone.